Ciao! Ciao! Forse non ti ricordi di me, sono Homer Simpson, quello del culo di sasso. Sì, me lo ricordo. Allora, ti va di uscire con te? Beh, non penso che tu sia il mio tipo. Vedi, il problema è che tu non mi conosci, ho delle referenze. Basta chiedere all'allenatore, all'allenatore Flanagan. E chiedi al signor Sekoski e Barney Gamble. Non lo so. Senti, non sto chiedendo di piacerti, non sto chiedendo di metterti in condizione di farmi tastare le tue chicche, ti sto solo chiedendo di essere imparziale. Homer Simpson? Ah, sì, il lanciatore di pezzi della squadra junior. Penso che si installerasse seriamente con i pezzi e tutto il resto. Potrebbe raggiungere un'altra ventina di centimetri. È stato mio alunno per quattro anni, un'infalibile media del sei. Costruì una rampa nello scorso anno. È un uomo per tutte le stagioni e forse per una bambola fortunata. Vuoi venire al ballo con me? Ma che ti iscuraggiò il cervello? Toccato. Allora, qual è la buona nuova? Mi dispiace. Cosa? Beh, sembri essere un ragazzo simpatico, ma non ho il tempo. Perché? Perché a giove ci sarà il campionato forense della città. E allora? Oh, e io do anche ripetizioni. Dai, ripetizioni? Sì. Chiunque può essere ripetuto? Basta che ti serve aiuto per il francese. Francese? Che coincidenza. Proprio la materia in cui io soprico di più, cara. Che volba, piatto, forbacchione. Storia fantastica. Assolutamente avvencente. Ciao. Ciao.